Arcangelo Michele 17 luglio 2013, sei molto più saggio nella tua interezza, più di quanto tu creda. Michael, oggi parleremo ancora una volta per un po', circa il continuo aumento di eventi importanti sul vostro pianeta, vi è una crescente marea di cambiamenti, sia visibili, che invisibili, che stanno cambiando le intere civiltà in modo, che anche le persone coinvolte, non possono vedere il campo di applicazione, forse l'unico modo di cominciare a capire le tendenze coinvolte, sarebbe quella di distaccarsi e cercare di raggiungere un punto di vista rimosso dalla mischia, per così dire, in realtà non vi è alcun aspetto della vostra esistenza, che è intatto, perché questo, perché ogni aspetto della vostra esistenza è creata dalla vostra coscienza collettiva, perché è stato stabilito che fosse così, perché, come detto molte volte, siete i co-creatori di questo mondo, è tempo per voi di capire questo, in modo molto più profondo che mai, come utenti accettate la responsabilità di questa crescita, in modo che crescerà il vostro potere per usarlo, viene stabilito che non si potrebbe pensare a questo potere nella sua pienezza, fino a quando avete imparato ad accettare le responsabilità, siete molto più saggi nella vostra interezza, più di quanto crediate, così molti di voi si sentono ancora piccoli, insignificanti, e persino sentirsi impotenti a fare qualsiasi cosa, sta arrivando la fine di questo, adesso, state diventando sempre più consapevoli dell'essere grande, che siete veramente, e come questo accade, i vostri se superiori sono in grado, sempre di più, di comunicare con voi e agire attraverso di voi, dopo tutto, loro sono voi, è auspicabile per voi guardare queste cose, questi cambiamenti interiori, ed accettarli, e di rispondere con gratitudine, esercitare l'intento delle vostre più alte abilità, per il bene più alto, come è stato detto, se l'unica preghiera, che avete mai pronunciata è, grazie, sarebbe sufficiente, energie divine, quali non sono mai stati prima a vostra disposizione, stanno circondando ora, il vostro pianeta, anzi il vostro sistema di stille, con sempre maggiore purezza, e stanno influenzando ogni essere sul pianeta, anche se non avete ancora sentito tutto questo, preparatevi ad essere stupiti, preparatevi a vivere nella gioia e libertà, meglio decidere di vivere in quel modo, noi siamo gli ultimi teorici della cospirazione, quando prendete la vostra decisione, l'universo cospira per rendervi la vostra realtà, vi preghiamo di accettare il nostro amore incondizionato profondo, parleremo di nuovo con voi presto, buongiorno, canalizzato da Ronead, traduzione Spirito Libero Vincenzo